Un saluto agli amici della Casa da Chiave. Oggi parliamo di questo caso particolare. Il cliente cerca di cambiare la batteria, spacca il trasponder che si trova in questa sede. Non c'è più e noi comunque gli abbiamo fatto la chiave. Il cliente ha portato con carattrezzi la macchina, ha fatto la chiave, gira, perfetto. Poi con le nostre speciali apparecchiature, ok, vediamo se funziona la chiave, perfetto. Benissimo, quindi oggi abbiamo fatto una chiave senza traspondere, l'abbiamo riprodotto noi qui in sede alla Casa da Chiave di Milano. Perfetto, Casa da Chiave di Milano number one. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.